Dopo aver organizzato e messo in sicurezza tutti gli ambienti del santuario, questa mattina riapriamo il santuario per i nostri amati pellegrini che sicuramente verranno per ringraziare la Madonna dopo questo periodo difficile che tutti abbiamo attraversato. Certo ci saranno delle limitazioni in questo momento, ancora non tutti gli ambienti del santuario sono aperti, ci saranno delle regole da rispettare, ma ci auguriamo che questo periodo passi al più presto in modo da poterci riabbracciare tutti. Si entra nel santuario solo avendo la mascherina, avendosi misurato la febbre all'ingresso e passato attraverso un tornello che ci dice il numero delle persone massime che possono accedere al santuario. In questo momento i posti seduti sono 180 per ogni celebrazione. Ci auguriamo che più avanti passi anche questo momento in modo da poter fare entrare più persone per le nostre celebrazioni liturgiche. Noi in 15 giorni abbiamo cercato di mettere a punto tutto iniziando dalla sanificazione. Il mio ringraziamento va alla prefettura di Avellino, alla sua eccellenza il prefetto, poi va ai vigili del fuoco che hanno effettuato proprio questa sanificazione e in più devo ringraziare anche il comune di Mercogliano nella persona del sindaco in quanto lui mi ha organizzato un po' tutta la fase di preparazione. Questo è un mese molto importante. Purtroppo quest'anno tutti i nostri pellegrini hanno pregato da lontano. Ecco, vedere il santuario acceso anche di sera, che lo è normalmente tutte le sere, è stato sempre un punto di riferimento per tutti i pellegrini. Questo era il periodo in cui c'era molta affluenza. C'erano i pellegrini tutti del Picentino, poi c'erano tutti i pellegrini che venivano dalle varie zone di Napoli, ma soprattutto c'era il grande pellegrinaggio che chiudeva il mese di maggio, che è quello di Ariano Irpino. Noi quest'anno siamo stati molto vicini, in questo periodo, alla popolazione di Ariano e al più presto li vorremmo di nuovo tra noi. E' stata una prova difficile. La cosa, come cristiani dobbiamo dire questo, che veramente abbiamo vissuto una Pasqua, una Pasqua diversa dalle solite. Pasqua per noi cristiani è la morte e la risurrezione. Tante persone sono venute meno in questo periodo, però dobbiamo assicurarci che siamo certi, che il Signore risorto farà risorgere anche noi un giorno. Prima di tutto, se dobbiamo che passi anche questa fase, perché ancora non è passata, dobbiamo dire. Ancora noi viviamo con delle restrizioni per la nostra salute, che servono principalmente per la nostra salute. penso che riorganizzare il tutto, però con un'ottica diversa, con una mensa diversa, perché questo sicuramente, questa pandemia, questo coronavirus ha cambiato le nostre vite, sta cambiando la nostra vita. L'ho detto ieri in comunità ai nostri confratelli, ai miei confratelli, e lo dico ai pellegrini, dobbiamo guardare il mondo e la società e anche la stessa gente in modo diverso e non sentirci dei creatori oppure dei dominatori di questa nostra terra, ma noi siamo creature nelle mani di Dio. Grazie.